Noi, secondo il nuovo protocollo, ci siamo attrezzati anche per questo. Siamo tutti attrezzati a bella distanza. Ci sono due metri, vero? Bravissimi, dai, continuate così. Non si è dato per vinto Yuri, titolare della Dorian Gray di Maser. Punk e bilanceri, ciclette sono stati portati nel parcheggio antistante e la palestra chiusa. Un po' per provocazione, un po' per resistenza, ma Yuri intende tirare dritto. Certo, la situazione nel mondo del fitness è drammatica. Il primo lockdown pesa ancora, così come gli adeguamenti ai protocolli di sicurezza. Come spese extra si parla di una cifra che va dai 12.000 ai 15.000 euro in più rispetto alla normalità. E questo senza dimenticare i costi fissi anche nel caso di chiusura totale, soprattutto per le piscine. Noi abbiamo chiuso questa mattina, ma io ho l'impianto che sta funzionando, quindi sta generando costo, proprio perché la chimicità dell'acqua ha tutte le sue proprietà e per permettere la balneabilità ha la necessità di essere seguita e manutentata. Ed è così che gli operatori si sentono delle cavie. Non è corretto fare esperimenti su chi fa impresa, perché comunque ci sono in ballo gli interessi di tutti all'interno di un'impresa. A Maseri intanto ci si allena e si cerca di tenere alto il morale. Mauro tira su il bilanciere, schiena ferma, ecco bravi, bravi ragazzi. Allora noi andiamo avanti e voi seguitici, più siamo meglio.